Il presidente Giuseppe Di Pangrazio ha ricevuto all'emiciclo la visita della rappresentante dell'ambasciata della Repubblica di Macedonia Magdalena Di Mova. Una visita istituzionale dall'alto valore simbolico, quella della ministra che ha voluto visitare l'Abruzzo ed in particolare la provincia dell'Aquila dove storicamente è radicata la comunità macedone. Sì, è la prima volta che mi trovo in quella regione e sono molto orgogliosa e felice che posso avere quell'incontro con il presidente del Consiglio della regione. Sono molto buoni rapporti e io vengo qui per prima volta a vedere come si trovano, se hanno problemi, se hanno bisogno perché soprattutto l'ambasciata è il logo per presentare non solo il paese da dove veniamo, la Repubblica Macedonia, ma anche per proteggere i nostri cittadini che si trovano qua, se hanno bisogno per bene e male, come si dice, l'ambasciata sempre deve essere aperta per i nostri cittadini. Una presenza forte è testimoniata anche da Salì Abdulla dell'associazione Rilingia che ha parlato del buon rapporto che si è staurato tra la comunità macedone e gli aquilani. La comunità macedone all'Aquila è tra le prime comunità straniere approdate, possiamo anche dire che è la comunità più numerosa, la comunità non appartenente all'Unione Europea più numerosa in città, ci possiamo anche vantare del fatto di dire tra le migliori integrate in città in quanto abbiamo avuto un'accoglienza da parte della città di L'Aquila molto buona, quindi il ricambio che è stato dalla comunità è quello di avere una buona integrazione, creare anche delle attività commerciali, delle imprese edili che sono poi state utili anche ad assumere non solo persone della comunità nostra ma anche persone aquilane, quindi penso che il risultato è stato ottimo.